buongiorno figli della notte eeeh meno male che non hai detto altro no bentornati su Quedoso Server 2 con Totemori o Totemori abbiamo fatto diverse partite in realtà e due delle quali due gameplay sono usciti bello questo vi sono piaciuti particolarmente metti quello questo è bello però è più bello quello vabbè facciamo prima quello hanno aggiunto qualche mappa forse sai non lo so comunque vi sono piaciuti particolarmente noi siamo contenti di ciò ok io sono quello rosso ah no ma hai messo il fatto apposta mo ce l'avevo fatta che cosa ho messo? hai messo il tutorial che è in modo ma no ma no bodypack botpack 3 minuti 5 minuti 10 minuti 5 minuti arena mito io sono quello il mio simbolo sarà oh ma è bello questo qui hanno aggiunto cose il mio simbolo sarà quello rosso io sono quel coso brutto onda quando fa schifo c'è pure le corna ehi due cazzo in fronte sembra allora non mi ricordo niente ma aia minchia suppongo che si debba fare una tipo una torre una torre ah aia mi fa sedere eh non lo so è cascata una bomba giusto vicino a quello che stavo facendo io allora ricordiamo qual è il gioco perchè non ci sto capendo più niente porco giuda ma perchè me ne volo giù e che ne so è tutta una cosa ma non è che c'ha c'ha qualche cosa ma per ma è cambiato perchè quando respawni io muoio automaticamente proprio porca mignotta guarda ha salvato il culo a tutti e due e dai che palle oh lasciami stare le cazzo di cose mie guarda sto pezzo di merda guarda sto facendo una torre bella no no svegliati ma che cazzo devo fare una torre altissima questo è il nuovo world trade center oh ma almeno hai rotto il pesello ma l'hai fatta cascare e anche se ma però non si dice ah stiamo morendo tutti e due siamo tutti e due madonna che culo di merda ho avuto guarda 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 come gira nervosamente cercando di buttarmi giù affana però c'è oh hai rotto il cazzo stai costruendo troppo oh guarda che merda che sei oh comunque il problema qui è uno prendere i punti a rotta di collo così come sto facendo io perchè ok fermo e dai ma sei una merda ma no ma questa ma perchè mi è successa una cosa orrenda scusami eh dai dai cacchio ok io sto prendendo i punti doppi perchè quel rotolo gigante doppio beh basta ma e ora no stavo per far saltare tutto e ora di ah no mica eeeh vabbè tanto ci pensa la bomba non ti preoccupare guardalo ti sei salvato ho salvato tutto oh no madonna quanto odio i controlli di sto gioco veramente oh però hai rotto le palle oh volevo colpire la torre di dio e invece è capitata una cosa ma perchè perchè lagga e tutto ciò perchè è pesante cioè un gioco come vedi spinge la mia e dai ma come fai a morire a non morire guarda 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 quella merda che sta spinge la mia macchina al massimo e allora oh mi hai soccato la minghia ye ye guarda zio bor-cior-cin-san-frinca pensa a fa punti piuttosto che a me e io penso a te perchè senza di te vaffan-gulo va si gioca meglio capito bomba bomba guardate come come vuole eh eh la mia è una tattica sottrattiva si ma ti faccio vedere io la tattica sottrattiva ne metto talmente tante in gi e dai e la no 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 poteva poteva fare il eeeh ok guarda che che guarda che merda che sei dai che sto vincendo manca pochissimo cacchio cacchio cacchiotto ok fatto delle mini torri ok sto per vincere sto per vincere madonna ragazzi vince combattutissima come partita ok avete capito come funziona bisogna fare le torri e bisogna bestemmiare ogni tanto guardate sinergo che ha cambiato stile di gioco io non ho cambiato stile di gioco è solo che a volte ahhh guarda che merda guarda no 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 e no e no c'è Cristina da vene in concerto guardalo 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 è respawnato dalle ceneri dai noo guarda stavo prendendo punti con la moto zappa niente oh ormai sto gioco è diventato il gang business ma si perchè comunque si è un gioco abbastanza dai che cazzo nooo merda e adesso te la becchi oh merda si si e succede proprio quello BOOM nooo merda stavo facendo un botto di punti oh purtroppo questo gioco ha una caratteristica che io detesto cioè una profonda casualità in alcuni avvenimenti all'interno beh insomma guardate sinergo come oh no 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 per esempio quella bomba lì è cosa succede che cazzo senti non è normale quello che sta succedendo ahah ti è saltato intanto io sto facendo punti con la moto zappa stavo facendo punti poi è arrivato sinergo io c'ho una tattica la mia tattica è fare punti quella di sinergo invece è rompere i coglioni ma si è più divertente via guarda che palle che sei guarda allora devo fare una bella torretta qui madonna quanto cazzo odio il sistema di controllo di sto gioco azzeccassi mai un c- aaaah cristina nooo ma che guarda che uomo di merda guarda allora ci sono guarda ti giuro l'ho fatto più per salvare la mia torre che per danneggiare te giuro però è capitato nooo bomba di merda nooo guarda cristina da venne in congel- guardalo come difende guarda quanto mi fa schifo non prende mai quello che deve prendere oh ma senti ma sei un giustamente nooo vaffanculo sei un balordo dopo 20 tentativi prende quel cazzo di pezzo è una cosa allucinante oh 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 che palle guarda non eh grazie ok c'è un sistema che un sistema di comandi che fa schifo difenderò questa torre a costo della vita proprio con le unghie e con il pussa no nooo nooo non dovevi come non dovevi guarda che non lo prende ma fai i punti che sto stra avanti rispetto a te lo so ma vuoi mettere la soddisfazione la soddisfazione della bestia no ho fatto cazzicare la mia torre ah i cazzi tuoi la soddisfazione dell'animale oh no per me è veramente frustrante il suo gioco nooo la bomba nooo una volta su 20 riesco a fare quello che voglio fare allora adesso ok nooo porca troia nooo e dai intanto sono sono iper avanti però appunto ti sto cercando di buttar giù letto e che cazzo quanto lo odio ma dai è divertente mi fa schi guarda guarda che schifo eh ma vedi che non non ti si rialza avanti a me eh non è che sei solo tu il problema no beh che non ti si rialzi è normale c'ha un tempo di e dai guarda però non è normale che io prendo un blocco che sta lontano 50 km invece di te che ti tengo sotto capito? ma è meglio almeno vedi che mi devi romper i coglioni cioè niente è allucinante non si fa guarda adesso ti prendo ma perchè tu mi prendi? perchè io so come il gioco ormai e dimmelo perchè niente gli vai vicino e premi non funziona a me funziona però hai rotto il cazzo ci metto tanto a creare le torri te pieta qua nooo sono morto sono vivo va nooo come hai fatto a prendermi? guarda che merda guarda sono tutto a caso è tutto a caso la mia torre beh beh ti vuoi venire a rompere il cazzo beh guarda ho ragazzi a me fa schifo sto gioco non ci posso fare niente a me piace tantissimo a me piace tantissimo a me piace tantitanto e tu fai king beast praticamente invece di fa bunt ma non prende quello che prendo io c'ho le cose davanti prende le cose che c'ho a sei metri c'è una cosa che devi sapere ovvero fare bunti è più importante che buttare giù l'avversario si però perchè quando butti giù l'avversario lui risfauna più in fretta quindi è meglio che lo stordisci e lo lasci a terra e ti fai i cazzi tuoi e tu questa cosa non le hai capito ecco per esempio quando voglio prendere una bomba che ce l'ho proprio davanti no? no io prendo e prende un blocco che sta in un altro gioco devi prendere in direzione della bomba non funziona così non funziona proveremo il prossimo gameplay e vediamo come vendrà comunque io lo odio tantissimo ah ah ah